buongiorno buongiorno oggi domenica 24 aprile rassegna stampa in breve di video 23 nuovo appuntamento con la nostra informazione cielo variabilmente nuvoloso sull'intero territorio alto tesino un'immagine che ci arriva dall'alta valve nostra queste sole montagne che circondano il centro abitato di solda nella vallata vedete vedete presenza di nuvole comunque la tendenza è quella di un lento ma costante miglioramento andiamo andiamo con l'aiuto di matteo berto a vedere le aperture dei quotidiani che troviamo oggi in edicola l'alto adige mercato generale si chiude è ufficiale lo stop entro il 2019 a rischio 150 posti di lavoro tensione al brenner oggi la protesta contro i nuovi muri centri sociali sel e rifondazione prima sfida pubblica mani libere sulle alleanze confronto ieri dei 13 candidati sindaco foglio di via per l'aggressore del vigile a bolzano e poi in via alto adige nuova asta benco ci pensa per lo spazio libero accanto la camera di commercio la cronaca cura del corriere dell'alto adige corteo antimuro trovata l'intesa fissato al percorso sappiamo oggi la manifestazione al brennero bilancio della asl censura dei giudici la magistratura contabile avverte carenze nei controlli previsioni non rispettate causa agli ex cda urgente della cassa di risparmio attesa la relazione legale la cronaca linguatresca la zette in edicola la domenica al posto del dolomiten la tragedia di cernobil 30 anni dopo come gli amministratori politici ma anche responsabili sanitari e ambientali di allora gestirono l'emergenza la cronaca che arriva della germania con la bild am sontag il tema delle pensioni per il governo di berlino e il corriere della sera dedica la sua apertura a renzi renzi che frena le polemiche sui giudici io li rispetto attendo le sentenze è tutto vi ringrazio per aver scelto anche oggi l'informazione di video 33